ciao ciao a tutti un bacio a tutti questo è un video tiger che manderò online non nel giorno che ho pensato io ma successivamente perché all'interno di questo bustone ci sono dei pensierini oltre a quelli che ho già fatto per due mie amiche quindi farò vedere questo video probabilmente dopo che forse faranno vedere anche loro qualcosa non lo so non lo so io lo faccio vedere dopo quindi ciao amiche sono andata al tiger c'è la promozione dell'halloween molto molto simpatica molto molto carina questi teschi questi fantasmini queste zucche rese un po più piacevoli e simpatici un teschio rimane un teschio però se a posto degli occhi ha delle gerbere che gli escono fuori risulta un attimino un po più leggero come tema quindi credo che il tiger abbia cambiato proprio la linea guida per far sì che comunque un prodotto possa essere esposto durante l'anno sempre perché veramente ha modificato proprio anche la struttura delle cose che mette in vendita dopo questa telegronaga detail io vi volevo far vedere il bustone che è molto molto carino e dietro invece ha il cactus che è molto molto simpatico allora adesso io vi sposto tutto questo non è un video lunghissimo è un video breve conciso veloce giusto per farci compagnia io non so quando torno a ripetere manderò online questo video diciamo che con l'inizio della scuola di mia figlia mi sono dedicata in casa alle pulizie domestiche ho rivoluzionato proprio tutto un assetto sportivo di casa e quindi diciamo che mi è rimasto oibò dietro e ahimè il canale mi dispiace tantissimo adesso che sto incominciando ad ingranare in questa nuova atmosfera casalinga silenziosa farò più video detto questo comunque adesso sposto il bustone e vi faccio vedere cos'è che ho preso prima di tutto con queste mie amiche faremo anche degli assaggi quindi ho comprato questi anche la mia amica ha fatto ha preso comunque qualcosa per fare video assaggi io mi sono buttata sul salato loro si sono buttati sul dolce quindi ho preso questo qui questo qua questa a noi piace proprio ho fatto al limite ci rimane come diciamo aperitivo ecco questi mi piacciono tanto quindi io credo che me li debbano proprio togliere da sotto le mani probabilmente a me piacciono poi ho preso questo l'ha voluto prendere michele probabilmente per faccia una grandissima e grassa risata e sono al wasabi io non l'ho mai provati penso che siano molto molto piccanti non lo so io penso che a parte il fatto che stiamo insieme noi tre penso che sarà una giornata proprio indimenticabile perché col wasabi io penso proprio che sarà indimenticabile io odio il piccante quindi questa cosa sarà proprio da ridere e questo mi rimane sempre impresso perché fanno sempre l'offerta delle patatine anche queste per gli assaggi questo è all'aceto e questo è al pepe quindi non so come usciranno fuori la particolarità è che vengono vendute due sacchetti a un euro quindi questo tutti questi un euro quindi questo è per il nostro video assaggi e parte con me perché domani partiamo cioè quando vedrete il video io sarò già partita quindi ciao sono tornata però devo partire adesso vi faccio vedere cosa ho comprato prima di tutto ho preso ciò che a loro piacevano tanto avevano visto loro non hanno il tiger vicino ho preso questi dispenser per washi tape vanno inseriti qui una volta tolto il macchin genio va svitato questo va sfilato e poi ce va inserito washi tape che possono essere impilati io ne ho praticamente penso che domani scarteremo regali come a natale e sicuramente farò il video su quello che loro mi hanno regalato perché sono praticamente da quando abbiamo detto che ci saremmo incontrate abbiamo incominciato a riempirci di roba e quindi io ho preso queste queste due dispenser una per una e una per l'altra poi una per uno e una per l'altra ho preso queste pagliette queste qui l'altra ama il verde e il blu quindi penso proprio quando ho visto questo non ho avuto dubbi quindi a una farò questo e all'altra farò questo proprio i colori che a loro piacciono quindi questo poi questo l'ho preso per noi e fa parte della collezione di tiger di halloween questi qui guarda che sono carini e sono simpatici eh non ho mai tirato fuori adesivi così carini sono proprio carini guardate questo qui è simpatico rip ah ne ha due di rip questi ce li ritegheremo io e Giulia poi per me a un euro ho preso anche quelli anche questi un euro questi ovviamente non li dico ma non sono prezzi sorbitanti questo qui l'ho preso per me per fare la resina questi colori addirittura io non li avevo questo scuro questo rosso così scuro questo verdone quindi l'ho presi c'erano anche altri glitter però comunque ho preso solo questo ecco poi per Giulia che gli si è rotta ho preso la calcolatrice questo è grande ma lei ha l'astuccio grande pagata 4 euro questo 4 euro però ecco è fatta proprio carina quindi questa qua anche questo raggi solari si accende e non si spegne quindi questo qui c'ha comunque la pila in dotazione suppongo si lo mette nell'astuccio poi ho preso sempre per loro un attimo perché mi sono intrecciate le cose allora ho preso questo nastro con tutte praticamente un nastro no decorativo tape dopo penso che si possano staccare singolarmente credo non lo so comunque hanno preso una per uno uno per l'altra che poi i colori sono uguali si sono identici 50 cm c'erano anche altre fantasie io ho preso queste qua poi sempre una per una una per l'altra ho preso questi due stichi meno memos stichi 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 nudes per la gente per tutto poi per me mi sono presa questo contenitore dove inserire volevo metterci tutte le graffette le clip perché le ho sparse un po' da una parte un po' dall'altra quando invece io ho bisogno sono tre contenitori quando invece io ho bisogno di averli proprio tutti insieme in modo tale che non mi occupano spazio c'erano anche chiuso non si vedeva niente dentro io non l'ho preso così ho preferito trasparente ce n'era anche uno che più essere un tiffany era un po' più scuro e non mi piacevo preferito questo rosa torna a ripetere sono tre contenitori anche il terzo è comunque diviso come gli altri vedete quindi mi piaceva molto perché comunque occupa meno spazio ma in altezza questo pagato mi sembra due euro tre euro non ricordo poi per me gioia di esistere al mondo mi sono presa questa anche se mi avete detto in un video che non funziona non potevo aprire non so nemmeno che colore ho preso no vabbè c'è la sacchetta no vabbè devo vederla c'è la sacchetta oh rosa amore l'ho trovata rosa cioè nel senso che non corrispondeva il fuori col dentro credo l'ho fatta figura in merda comunque vabbè no vabbè che bella mi piace tantissimo no io so pazza per ste cose so stupende guardate che bella 5 euro l'ho presa funzionerà non funzionerà pazienza pazienza io ce l'ho questi rocchetti volevo farvi vedere una cosa amore ma chi è rose ciao mamma e spillo amore mi sa che devono andare fuori questi baldi giovani no vabbè ma è troppo carina ma carina davvero ma amore ma se te ne è così io e il cucito siamo tutt'uno no vabbè ma è troppo carina mi piace troppo tantissimo comunque c'è la spiegazione di come funzia ma avete detto addirittura il rocchetto grande ci si può mettere ma guardate che bella no vabbè ma è un amore io devo assolutamente devo assolutamente fare mi piace proprio questa qui nella sacchettina ma vi rendete conto no è troppo bella bella tanto bella tanto quindi a posto e per finire Giulia ha preso ha chiesto di prendere adesso tolgo questo perché se no non si vede niente ci sono le penne di tutte le forme manifatture di tutti i pezzi di tutti i cosi lei è piaciuto questo qua col fantasmino c'era sia con la zucca che con non va via sia con la zucca che con lo scheletro a lei è piaciuto il fantasmino gli ricorda Ghostbuster troppo carino e premendo dietro fa cazzotti quindi poi in teoria sarebbe così accende si accende la non so se riescono è carino eh e tutte le volte che si accende la lucetta questi fa c'è tutte le volte che fai a cazzotti si accende la lucetta eri che hai fatto un magello e in più questo qui è una penna quindi se io l'apro che l'apro aia che dolor dovrebbe essere una penna una penna c'ha salva freschezza qui praticamente è chiuso se l'aprirà mai eccola praticamente è chiuso non so che colore scriverà ma perché credo che per Giulia sia indifferente perché gli piaceva l'idea del fantasma ok questo è il video vi mando un bacio grazie per essere stata con me in fondo metterò tutte le foto che sono riuscita a scattare da Tiger con l'offerte con la promozione con la cosa di Halloween vabbè ciao ciao a tutti ciao 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 ciao